La Fena è un sbaglio mio, perché mi ha interessato sempre a fare. Quello sbaglio l'ha fatto tua madre e sono andata. Perché se ci tenia, come che chi aveva cercava. E lui non sapevo giusto cosa. Staline. Se Boostre a documenti, no lo stesso a tuvi? Deve essere noti documenti? Si tu non mi hai documenti, tu non mi hai documento, questa cosa. Sì, Piaaa... Perché non mi hai documento? F*** tu le! Perché non mi hai documento che card sozzi? Che hai sicuramente, io non mi hai documento che scurre. Ma che non mi hai documento che ce ne le fa non ci fai. Si, lei non mi hai documento, è vero cosa che 我 già raccoggiare i nostri occhi? Ma che ne dici ne dici, io non mi hai tornato. Sì, sì, sì. Oscar! Oscar!